Sostenibilità, pari opportunità, inclusione sociale ed ecologia sono temi di cui sentiamo parlare sempre più spesso e la dimensione sociale della sostenibilità rimane sempre un po' più nell'ombra. Mi chiamo Clarissa, sono assistente di ricerca all'Usi, la mia ricerca verte sul diritto degli appalti pubblici e sulla sostenibilità. Il mio obiettivo è quello di integrare la dimensione sociale della sostenibilità nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Mi sono chiesta quando lo Stato agisce in qualità di consumatore, lo deve fare dando il buon esempio. Quindi quando acquista i beni, i servizi e le opere idili di cui necessita, deve farlo acquistando solamente da quelle imprese che rispettano determinati standard ecologici e sociali. La risposta per me è sì, soprattutto perché questo settore rappresenta un segmento molto rilevante dell'economia svizzera, dall'incirca 41 miliardi di franchi all'anno. Tradizionalmente i committenti statali hanno sempre acquistato dalle imprese l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo quindi in considerazione principalmente il criterio del prezzo. Ad oggi però, sia a livello internazionale sia a livello nazionale, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio cambiamento di paradigma che richiede appunto allo Stato consumatore di tenere maggiormente in considerazione gli aspetti sociali ed ambientali nell'ambito dei suoi acquisti. La mia ricerca mira a promuovere in maniera efficace la dimensione sociale della sostenibilità, quindi attraverso l'introduzione di nuovi criteri nei bandi di concorso e nella legge, incentivare le imprese a comportarsi in maniera socialmente responsabile sul mercato, a garantire pari opportunità a donne, uomini e persone disabili, a promuovere le carriere femminili e ad agire più in generale per l'inclusione sociale. Sono temi che mi appassionano molto e quindi ho trovato interessante proprio riuscire a collegare queste due tematiche, quindi il diritto degli appalti e questi aspetti sociali della sostenibilità in un'unica ricerca.